Ciao a tutti cari ascoltatori metto e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a parlare delle forti eruzioni d'aria gelida che sta per arrivare sul nostro paese a partire dalla giornata del 7 di gennaio ma anche per quello che potrebbe accadere dopo perché una seconda eruzione d'aria fredda, forse ancora più forte, potrebbe arrivare sul nostro paese a causa della bilobazione del vortice polare. Ben ritrovati a tutti su questo video, non dilunghiamoci in altre chiacchiere e partiamo subito dal vedere com'è il tempo in questo momento e come andrà a evolversi nei prossimi giorni. Nella giornata di oggi il nostro paese è interessato ad aria abbastanza fresca soprattutto sulle regioni del centro e nord Italia portando anche un po' di instabilità in generale su tutta la nostra penisola a causa di un passaggio di umidità e perturbato anche al di là delle Alpi. Cosa accadrà poi dopo la giornata di oggi? Bene, nella giornata di domani il maltempo continuerà a persistere sul nostro paese anche se con un leggero miglioramento soprattutto sulle regioni del centro Italia. A partire però dalla giornata del 5 la situazione inizierebbe a cambiare notevolmente come possiamo vedere da queste immagini a causa dell'arrivo di un'aria fredda di origine atlantica con un minimo depressionario anche molto profondo. E proprio qua arriva la svolta perché a partire dalla giornata tra il 5 e il 6 un promontore d'alta pressione di origine azzoriano si andrà a slanciare fino a raggiungere l'Islanda e il lago dell'Ammio portando dell'aria molto molto fresca e stabile sul nostro paese dando vita anche a un possibile ciclone mediterraneo. Carissimi ascoltatori le statistiche mi dicono che più del 60% di voi che guarda i miei video non è iscritta se apprezzate i video e il mio impegno datemi una mano iscrivendovi e attivando la campanella così da arrivare a 40.000 iscritti entro la primavera detto questo continuiamo con il video. Come possiamo vedere questo ciclone dovrebbe richiamare dell'aria fredda che porterebbe temperature su quasi tutto il nostro paese a di sotto della media stagionale con termiche fino anche a meno 5, meno 7 a 1500 metri. Attenzione a un cuscinetto freddo che si potrebbe creare proprio sul Piemonte e qui avere nevicate anche molto abbondanti ma potrebbero essere attese in caso anche di perturbazione in generale su tutta la Val Padana. Cosa accadrà dopo? Ebbene qui è l'inizio di un grande cambiamento proprio perché a partire da questo momento l'alta pressione continuerà a slanciarsi verso l'Artico favorendo la bilobazione delle vortici polari. Ricordo il vortice polare essere questo vastissimo campo di bassa pressione che scorre proprio agli estremi del nostro globo in questo caso nella zona Artica al sud invece nella zona Antartica e che se in caso di alta pressione viene diviso a metà il globo canadese e quello siberiano potrebbe dare vita a delle fortissime eluzioni sul nostro paese e questa è un'ipotesi che sta già circolando ormai da qualche emissione e quindi ve la propongo. Come potete ben vedere anche da queste immagini dell'area gelida di origine proprio Artico-Continentale si potrebbe buttare sul nostro paese a causa del vortice polare come appena detto che si troverebbe in luoghi e in zone non sue di natura. Questo poi, stando a questo modello arriveremmo a una situazione molto molto estrema addirittura col vortice polare che potrebbe gettarsi proprio sul Mediterraneo ma ovviamente questo secondo me è un po' estremo possiamo limitarci a dire che dopo la prima eruzione che avrà inizio nella giornata del 6 e che finirà nella giornata poi dell'11 potrebbe esserci una seconda eruzione che potrebbe avere inizio nella giornata del 13 e finire verso il 16 insomma, un inverno che finalmente sembra essersi sbloccato proprio grazie a questo vortice polare in difficoltà io mi invito se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi al canale lasciando un mi piace attivare la campanella prima delle sempre aggiornate con nuovissimi video